Non è nulla? No. No, è vero. Perché il mio è così accostato? No, lei ce l'ha più accostato qua vicino. Però, cioè, sta, però, lo sento come se fosse un po' che scappa. Però, però vieni. Oh, no! Questa è fatalità. Oh, oh, oh. No? Perché no? Oh, no! 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 Fatalità, non pensavo che passassi di qua Oh, 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 peggio per me Che rimango qui a parlare con te Fatalità, Paola e Chiara, ma bravi, ma complimenti Ciao, grazie anche ai ragazzi Ciao, complimenti anche ai ragazzi Perché tra l'altro ho visto che nel balletto C'era Paola che si è seduta su una sorta di divano mano E tu che sei salita sulle spalle Ma sono comodi questi ballerini? Ma loro bravissimi Comodi, Anno Comodissimi, così magari me li prestate Anch'io, guarda che se faccio il divano io Vediamoci qual è stata la canzone più scaricata della settimana scorsa Quella di Cristicchi, Voglio cantare come Piaggio